Il progetto Biotech è un progetto che riguarda lo sviluppo delle conoscenze sulle biotecnologie sostenibili per l'agricoltura italiana. È un progetto finanziato dal Ministero dell'Aricoltura e coordinato dal CREA. Biotecnologie sostenibili significa sviluppare competenze nel settore del genome editing, che è questa nuova tecnologia che ha ricevuto il premio Nobel lo scorso anno, è che è una tecnologia che consente di entrare all'interno dei geni di una pianta e di indurre mutazioni specifiche, cioè di correggere alcuni difetti genici della pianta trasformando alcuni geni in geni capaci di portare un carattere positivo. All'esempio possiamo indurre una resistenza a una malattia, possiamo anche migliorare la tolleranza delle piante allo stress idrico, possiamo migliorare la produttività delle piante, eccetera. Questa è una tecnologia non OGM perché non comporta il trasferimento di geni da un organismo ad un altro. Stiamo parlando di indurre mutazioni all'interno della pianta di cui vogliamo migliorare i caratteri.